Libri cari amici, libri, è in corso una faida, un duello terribile tra lo scrittore Roberto Saviano e il governatore Vincenzo De Luca, Vincenzo De Luca è governatore PD della Campania, Roberto Saviano è un intellettuale, è uno scrittore di fama nazionale e internazionale. Vediamo che cosa è successo. Allora, qualche giorno fa Roberto Saviano si è pubblicamente lamentato perché ha pubblicamente dichiarato di essere stato escluso dalla partecipazione al festival di Ravello, il festival dei libri di Ravello perché sembra che Roberto Saviano non sia gradito al governatore della Campania Vincenzo De Luca. E Roberto Saviano ha pubblicamente espresso che egli, Roberto Saviano, non può partecipare al festival di Ravello perché ci sarebbe il veto, il veto del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Mi pare che entrambi i contendenti, lo scrittore intellettuale Roberto Saviano e il governatore della Campania Vincenzo De Luca, mi pare che siano entrambi del PD, quindi è una faida interna al PD, è un duello interno al PD, per questione di libri, di libri, di libri, perché Roberto Saviano poteva partecipare al festival di Ravello come scrittore, come scrittore, ha scritto tanti libri, se lo che in data successiva Roberto Saviano è venuto a sapere che sempre in Campania presto ci sarebbe un altro festival, Salerno, letteratura, Salerno, letteratura, e guarda caso che al festival del libro Salerno, letteratura, tra gli invitati ci sarebbe pure il figlio del governatore, il figlio del governatore, il figlio del governatore si chiama Roberto De Luca, Roberto De Luca è laureato, ha un ottimo curriculum di studi ed è anche uno scrittore, allora Roberto Saviano si chiede, io Roberto Saviano sono stato escluso dal Ravello Festival perché il governatore della campania non ha espresso gradimento nei miei confronti, però a Salerno letteratura tra gli invitati, tra gli scrittori invitati c'è Roberto De Luca che è figlio del governatore Vincenzo De Luca e quindi Roberto Saviano fa intendere che pare che ci sia una forma di famidismo, nepotismo, pare, 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 si non è una cosa simpatica ma può accadarsi che, può accadarsi che, può accadarsi che Salerno letteratura, Salerno letteratura non abbia subito l'influenza del governatore Vincenzo De Luca e che il figlio del governatore Vincenzo De Luca vada a Salerno letteratura per i suoi meriti, per i suoi meriti, io lo sono letto, il curriculum è pubblico, è pubblico, ciascuno di voi sul web può leggere il curriculum del figlio del governatore Vincenzo De Luca e il figlio del governatore Vincenzo De Luca si chiama Roberto De Luca ciascuno di voi può leggerlo il curriculum, è un curriculum di tutto rispetto ora c'è il malcontento di Roberto Saviano, è un malcontento giustificato però io qualche giorno fa avevo già parlato del caso, del caso dello scrittore Roberto Saviano che aveva pubblicamente dichiarato di non partecipare al festival Salerno letteratura perché ci sarebbe l'opposizione del governatore della campagna Vincenzo De Luca e avevo già parlato e avevo anche detto che forse il governatore Vincenzo De Luca forse il governatore Vincenzo De Luca non voleva la partecipazione di Roberto Saviano perché forse il governatore Vincenzo De Luca sa che Roberto Saviano anche se è un grande scrittore, un grande intellettuale però Roberto Saviano è stato condannato dalla magistratura italiana in tutti e tre i gradi di giudizio per plagio per aver copiato relativamente al suo primo celebre romanzo Gomorra, Gomorra è così, è un grande intellettuale Roberto Saviano un grande scrittore però è stato condannato dalla magistratura italiana in tutti e tre i gradi di giudizio per aver copiato lo stesso Saviano ha dovuto ammettere sì, ho copiato poco ma ho copiato ora Roberto Saviano se vuole compiere diciamo così la sua vendetta la sua vendetta dovrebbe dimostrare che il figlio del governatore Vincenzo De Luca che si chiama Roberto De Luca magari ha copiato pure lui ha copiato pure lui cioè caro Roberto Saviano io qua ripeto che ti voglio bene e ti apprezzo però ti apprezzo per le tue idee però io se la fino ma sono sono questo qua non sono contento Roberto Saviano perché tu sei stato dalla magistratura italiana condannato in tutti e tre i gradi di giudizio per aver copiato ora tu Roberto Saviano potrai portare a termine la tua faida nei confronti del governatore della Campania Vincenzo De Luca dimostrando che il figlio del governatore della Campania il figlio del governatore della Campania si chiama Roberto De Luca cerca di dimostrare che pure costui ha copiato leggi con cura i suoi libri cerca di vedere se magari è il figlio del governatore nello scrivere i suoi libri magari ha scopiazzato da qualche parte non è facile dimostrare che uno che uno ha copiato io per esempio caro Roberto Saviano ho scritto tante opere tante tante opere ho scritto oddio quante opere che ho scritto sarei molto contento se qualcuno dimostrasse che io ho un po' scopiazzato un po' di qua un po' di là mi piacerebbe tanto venire denunciato io se la fino Massoni sarei tanto contento di venire denunciato per aver copiato e magari io se la fino Massoni venire dalla magistratura italiana condannato in tutti e tre i gradi giudizio per aver copiato e così diventerei famoso in tutta Italia e e e poi sarei invitato nei talk show televisivi perché mi pare che sia questo che sia questo litter che deve percorrere uno per diventare famoso c'è c'è anche il caso di Corrado Augas al quale Corrado Augas io potente intellettuale italiano eh al quale Corrado Augas io Serafino Massoni ho dedicato un celeberimo video di una quindicina d'anni fa in tutto lato Corrado Augas non copiare ed è famoso Corrado Augas sta in tutti i talk show televisivi quindi quindi io Roberto Saviano ti invito a prendere in mano i libri del figlio del governatore il figlio del governatore si chiama Roberto De Luca procurati i suoi libri leggili attentamente cerca di verificare se il figlio del governatore ha un po' scoppiazzato lo denunci poi il figlio del governatore Vincenzo De Luca verrebbe condannato dalla magistratura italiana e e diciamo che che il cerchio si chiuderebbe si chiuderebbe e il governatore della campagna dovrebbe tacere però caro Roberto Saviano ripeto devi devi procurarti i libri i libri del figlio del governatore della campagna le leggi con cura cerchi di vedere se egli ha copiato e poi lo denunci quando il figlio del governatore della campagna il figlio si chiama Roberto De Luca fosse condannato dalla magistratura italiana in tutti i tre gradi di giudizio per avere anche egli copiato sareste alla pari sareste alla pari ma attualmente caro scrittore intellettuale Roberto Saviano c'è una disparità tra te e il figlio del governatore della campagna perché tu Roberto Saviano sei stato condannato dalla magistratura italiana in tutti i tre gradi di giudizio per aver copiato e invece il figlio del governatore della campagna il figlio si chiama Roberto De Luca ha scritto pure lui dei libri ma ancora non è stato condannato per avere copiato ok cari amici io guardate che la notizia l'ho letta su Lanza e tale notizia così come l'ho letta ve la metto nel link di questo video affinché anche voi la possiate leggere nella sua interezza e liberamente commentare cose poco carine cari amici cose poco carine che riguardano i libri che riguardano i libri io dei libri me ne intendo vedete perché questa è la mia ultima opera questa è la mia ultima opera è stata pubblicata due anni fa da Leoni da Edizioni e ancora e ancora va a rubare le librerie a Roberto Saviano al governatore della campagna Vincenzo De Luca a suo figlio Roberto De Luca a Salerno letteratura a Ravello Festival e a tutti voi tanti cari saluti dalla scrive del serpente a Salerno e Al Adamso a Salerno a Salerno